Ciao tifoso bianconero, bentornato in un nuovo video. Come sempre ti invito ad iscriverti al canale per non perderti alcuna novità e per rimanere aggiornato su tutte le novità della Juventus. Ti ricordo inoltre di attivare la campanella delle notifiche che trovi qui in basso. Giornata importante è quella di oggi per la Juventus, che vede il CDA convocato per l'approvazione del bilancio in rosso di 250 milioni. La Juventus si tratta del quinto anno consecutivo col bilancio in negativo, Sicuramente con il CDA di quest'oggi la Juve sta cercando di studiare un piano di sostenibilità che riduca le perdite del 50%. Una delle mosse che è già stata intrapresa dalla Juventus è sicuramente quella della riduzione degli ingaggi della Rosa. Presenti saranno sicuramente il presidente Andrea Agnelli e il suo braccio destro Pavel Nedved. Si potrebbe pensare di trattare su un altro argomento che è più vicino al campo, ossia l'esonero possibile di Allegri. Molto probabilmente questo non avverrà perché in merito alla dirigenza si è già espressa di dare ancora fiducia all'allenatore Livornese. Ci sono voci però che sostengono un possibile ritorno, molto probabilmente a giugno, di Antonio Conte. Quest'ultimo potrebbe davvero essere l'allenatore perfetto che potrebbe riportare gli equilibri in casa bianconera. Serve infatti un allenatore che mette in riga la squadra e che dia quella fama e quella grinta che non si vede già da un po' di tempo. Il cambio di panchina adesso è praticamente da considerare impossibile nonostante tante voci che oltre ad Antonio Conte circolano su Tuchel. Per questo video è tutto, noi vi terremo aggiornati per altri sviluppi della Juventus. Ciao e a presto!